Prima dicevamo questo problema della potenza e dell'atto nel pensiero occidentale in Aristotele, il passaggio, come si passa da una potenza all'atto dal possibile reale. Per esempio, quando Aristotele si interroga su questo concetto di come si fa a passare dalla potenza all'atto, elabora questa categoria che in greco si scrive che è una parola che è exis, che exis è il sostantivo del verbo eco che significa avere, infatti viene tradotta come abito, cioè com'è che noi possiamo avere la potenza, questo è un problema che si vuole a Aristotele, e quindi cerca di pensare il modo, per esempio, com'è che l'architetto ha la sua potenza di costruire, com'è che lo scultore ha la sua potenza di costruire, com'è che il pianista ha la sua potenza di solare il piano, elabora questo concetto che secondo me è importante, e ne ha l'abito, però appunto che significa avere l'abito di qualcosa, per dividere brevemente, poi questa idea esoterica nel Medioevo viene elaborata nel senso di interpretare questo abito, questo modo in cui chi scolpisce ha l'art, chi indirge all'arte del verbo, viene interpretata al terzo concetto di virtus, virtù, cioè c'è questa definizione, nella teoria delle virtù che non è una teoria soltanto morale, religiosa, no, diciamo che qui parliamo di filosofia, ed è importante oggi qui il virtuale è così importante, la virtù viene intesa come un abito operativo, cioè ciò che permette a chi ha una potenza di passare all'alto, non è un caso che i grandi violinisti siano chiamati di virtuosi, sono chiamati virtuosi per via di questa teoria che è tutto ciò che permette il passaggio che permette al grande pianista di solare è che lui possiede questa virtù, questo abito operativo di passare all'alto. Questa cosa poi viene elaborata nella filosofia Descartes, eccetera, come l'idea che ci sia nella potenza una vis, una forza. La potenza contiene in sé una forza che permette di passare all'alto. E quindi allora Glenn Gould è colui che ha il sapere di suonare e poi ha una virtù, una vis, una forza che gli permette di passare all'alto. Ecco, volevo mettere in questione ancora una volta che si è venuto, fare una critica di quest'idea della virtù e del virtuale, perché tra l'altro se ci pensate a quest'idea che cos'è, l'idea della virtù, è l'idea in fondo che sia possibile governare la propria potenza. Torniamo all'idea di governo. L'idea è che quindi chi è il grande pianista, colui che ha questo sapere, questa cosa, e ha poi il potere di governarlo, metterlo in atto o non metterlo in atto. La virtù e il virtuale diventa appunto una specie di governo operativo della potenza. Ecco, invece questa idea di una potenza anarchica che io sono suggerito è un po' il contrario può veramente suonare chi non ha questo saper suonare. Quello che diceva, ricordate che si sente il campione di moto che dice guardate, io non so suonare per ruotare, io non ho mai imparato a ruotare. Capito, è un po' importante, perché significa un po' rovesciare questa tradizione secondo cui la potenza è qualcosa che ha bisogno poi di un potere dentro di sé che permette di passare all'atto e questo potere è detenuto da una persona, eccetera. Ecco, di sorta appunto la domanda, per esempio, posso scrivere? Si risponde, sì perché io so scrivere, quindi posso scrivere perché so scrivere, si può una risposta, no? Questa idea appunto di un sapere, quindi di un abito, di una virtù contenuta in questo sapere. ecco, poi invece io volevo un po' suggerire l'idea che non sono io che posso perché so scrivere, ma sono piuttosto la scrittura e il pensiero che diventano in me possibili. non sono io che li governo, cioè veramente capace di un atto poetico non è una persona che detiene il potere poetico e a un certo punto non si dà perché decide di passare all'atto. Passa, cioè veramente compie un atto poetico colui che è senza potere di fronte alla propria potenza. Non so se riuscite a parlare quello che voglio dire. Secondo me è importante, se lo chiedete a un poeta lo capisce subito. Poeta è colui che può scrivere una poesia solo perché non sa prima scrivere una poesia. Il poeta, perché si parla di ispirazione? Perché c'è questo concetto dell'ispirazione? Il poeta concepisce il poetare come essere senza potere di fronte alla propria potenza di scrivere. non avere il potere. Quelli che hanno il potere di scrivere sono gli scrivacchini che riempiono dei loro romanzacci e l'orrenda editoria che inonda le librerie di libri completamente inutili. Quei pochi libri che meritano di essere allenti sono stati scritti da qualcuno che non sapeva scrivere. Perché chi sta scrivere pretende di avere tutto un sistema di regole che si mette nel tavolino e siccome l'editore mi ha detto che che avete successo devi mettere questo, devi mettere quest'altro, devi usare questo tipo di scrittura, periodi brevi, questo è quello che sta a scrivere. Ecco invece il controllo. Chi compie un atto poetico chi si pone senza, si pone una potenza nativa, cioè accetta di essere senza potere di fronte alla propria potenza. Però questo appunto non è affatto strano ma anche ascoltato che appunto la nostra cultura è dominata da questa idea appunto invece di un primato del sapere. C'è un testo, un frammento molto bello di Kierkegaard che si chiama fare dialettica della comunicazione etica che pone proprio questa cosa, dice quello che ha rovinato, e voi pensate all'università, quello che ha rovinato il nostro pensiero moderno è che si è cercato di trasmettere come un sapere ciò che si poteva trasmettere solo come un potere. Esatto. Cioè si è voluto trasmettere il sapere qualcosa e non il potere qualcosa. Questo testo insiste molto, entra molto a vedere come appunto sia impossibile se io pretendo di trasmettere un sapere in realtà non servo a nulla, avrei dovuto trasmettere un sapere e sto scambiando l'idea di sapere con quella di potere. E questo in generale è un po' che è proprio legato alla modernità se ci pensate. L'uomo antico, se dovessi dare una definizione, qual è la differenza tra l'uomo antico e l'uomo moderno? L'uomo antico è un uomo che può. L'uomo moderno è un uomo che sa e vuole. Sapete per esempio questa cosa curiosa che in greco non c'è il concetto di volontà? E appunto loro non pensavano di poter agire come qualcosa che con un atto di volontà, la creazione di Dio che decide di creare il mondo, gli era asturda per loro. E appunto l'uomo, il concetto per loro importante era la possibilità, il potere, ciò che posso fare, non ciò che so fare. E quindi questa è un'importante idea, diciamo, perché anche la nostra Università? La nostra Università, tranne eccezioni, si fonda sull'idea che si tratti di trasmettere un sapere, ma non un potere. Quindi si trasmettono poi delle nozioni inerti. Ovviamente c'è qualcuno, vuol dire che le eccezioni ci sono, c'è qualcuno che mentre trasmette qualcosa trasmette anche il potere. Però diciamo, la concezione è quella, no? C'è un sistema non di sapienti, ma di saccenti, dovremmo dire. Saccenti significa, però uguale, sarebbe la stessa parola, quello che per fortuna si distinguono i saccenti dei sapienti. Questo è anche importante, perché è importante? Perché è anche un problema politico. Una delle cose importanti che Michel Foucault ha fatto contare, perché mi parla sempre tanto dei saperi, è l'importanza del rapporto tra sapere e potere. Il sapere è sempre legato a un potere qui nel senso di poteri istituzionali, non nel potere europeo, nel senso di poteri istituzionali. E appunto molti lavori di Foucault mostra proprio come l'elavorazione di un sapere nella nostra cultura va sempre di pari passo, poi è la strutturazione di una forma di dominio, di potere corrispondente a questo sapere. Quindi appunto, come dire sempre, è anche uno strumento di governo, il sapere. E questo è un punto molto importante perché, per esempio, voi sapete chi era Majorana? Allora Majorana è un grandissimo fisico e matematico italiano, uno che è considerato il massimo, che nel 25 marzo 1938 scomparre e non fu mai più trovato, né morto né vivo. Questo Majorana aveva scritto un testo, secondo me molto importante, sul rapporto tra la statistica e la probabilità, nelle scienze di cui si occupava, e però stranamente il governo sociale. Voi forse sapete, speriamo che lo sapete, che la fisica post-quantica moderna si fonda molto sulla statistica e la probabilità. Cioè uno dei punti cari, diciamo, della fisica quantica è che noi non possiamo conoscere il reale, ma attraverso la statistica, il calcolo di probabilità, possiamo governarlo, intervenire con l'esperimento. e in questo testo di Majorana dice proprio che si mette in guardia contro, come dire, una scienza che diventa non un sistema di conoscenza del mondo, ma un sistema di governo del mondo. E se lasciamo, appunto, la scienza, la politica è un po' questo, appunto, questi sistemi di sapere sono molto tesi, appunto, non a una conoscenza del mondo, ma a un governo del mondo. E oggi questo è evidente, no? Tutti incredibili, cioè come ci sia stata questa abdicazione della scienza, no? Incredibile. Cioè, gli scienziati, attualmente, dicono una cosa e il suo contrario, delle sciocchezze senza senso e delle cose sensate, delle follie inaudite senza nessuna base e delle cose invece... E' come se, appunto, la scienza avesse abdicato al suo compagno del scienziatore, perché le dicono perché è importante governare il mondo, intervenire adesso, no? Una funzione che ha avuto la scienza oggi, no? La scienza, queste commissioni intrinquenti che saranno, no? che sono, eh, non è, ma sono proprio i miei, eh, perché l'hanno fatto per rendere governabili la scienza, secondo me, certo, non è veramente riuscito. E quindi, appunto, ecco, questa idea, non so se avete capito ancora questa idea di una critica del sapere, no? che è importante. E vabbè, tanto più, ciò che adesso succediamo, tanto più, proprio perché questa è la situazione, no? E tanto più, eh, oggi, mi sembra che la cosa da fare sia questa che abbiamo già evocato tante volte, quindi di creare all'interno di questa struttura una comunità che agisce con principi eventualmente altri, diversi, anche semplicemente resistenti. Eh, perché, appunto, i paradigmi sono questi che ho cercato di delineare. Quindi è importante in ognuno di questi ambiti agire con un principio, per esempio, questa cosa che è il sito della potenza narrativa, è importante, cioè capire che la potenza che abbiamo non la dobbiamo pensare come potere di... ma proprio se l'accettiamo come prima di potere, ci permetterà di agire. Un po' come dicevamo prima su questi concetti come società senza classe, rivoluzione, se li pensiamo come qualcosa che dobbiamo realizzare in atto, producono il contrario. Se invece li manteniamo nella loro irrioresibilità, proprio così ci permetteranno di agire. Mi sembra, appunto, che una potenza narrativa ci permetterà di agire molto più che una potenza che cerchiamo invece di articolare con il sapere o con il potese. Vabbè, adesso partiamo di... Grazie.